Somewhere, deep in the jungle, are living, some little men and women. They are our past. And maybe, maybe they are the future. Ciber Poetry d'Avanguardia, Introduzione Fetticcio Zero, del diario di Perla Nera. Salve! Carissimi visitatori e panchetari. Il bello del Ciber Paruk non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini degli impossibili ci dà non solo la sensazione allucinante ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali. Versione per non vedenti benvenuti. Cyber Top Art Top New Romantic, Copyright. Italian Stories. Le divine passioni di Perla Nera 2015. Capitolo primo fuori dall'abisso. La rinascita di Perla Nera. Dopo venti anni di orrenda clausura al servizio implacabile della dottrina di un impero fondato sulla tortura mentale e disciplina di incenso ipnotico. Con la sacra devozione verso un diabolico dio dell'ignoranza. Ho deciso di lasciare per sempre questa prigione di ebeti cattolici per esternarmi pienamente e dedicarmi al vero piacere e profondo amore della mia vita naturale e magica. Prima libertà alla riscoperta di me stessa. Finalmente posso ricominciare ad accarezzarmi quando ho voglia e dedicarmi a tutte le fantasie di grande passione del piacere e delle mie vere voglie e godere per saziare tutti i miei calorosi desideri. Ho passato un vero inferno di castità, dolorosa è stata la tortura dell'astinenza, migliaia di fantasmi e repressi, ora basta per sempre, ho tanta voglia di carne fresca, calda e profumata, di lasciarmi andare alle emozioni più sfrenate e avventura profonda erotica con tutto, brucio dal desiderio di uomini, donne e coppie. Via dal monastero viaggio a Parigi. Ero quasi sempre bagnata e vogliosa avevo lasciato il monastero italiano per trasferirmi nella capitale dell'amore, Parigi, con l'intenzione di rimanerci qualche mese per divertirmi liberamente. Trovai un romantico appartamento in periferia dove, sotto casa potevo lavorare part-time come commessa in una piccola gioielleria. La moglie del gioielliere andava spesso in giro per l'Europa a comprare metalli e pietre preziose per i clienti più esigenti, cosa che al marito faceva piacere, dato il loro rapporto molto aperto e simpaticamente bizzarro. Sicuramente era questo il motivo per cui M.A. avevano assunta e affittato l'appartamentino nella loro affascinante casa. Parigi autunno 2020 Felice sul TGV Correva l'anno 2020 e il Vaticano aveva appena svelato che la Bibbia fu un plagio degli inquisitori, creata per maledire ogni tipo di rito magico pagano. Avevo trovato l'impiego online su un profilo dove cercavano ragazze immagine dai 40 in su. Con i miei 38 anni, M.A. ero subito candidata e grazie alle mie approfondite conoscenze linguistiche, nel giro di tre giorni ottenni il contratto per sei mesi. Durante l'intero viaggio ero felicissima ed eccitatissima. La padrona M.A. venne a prendere personalmente in automobile alla stazione centrale. M.A. accolse con un tenero e dolce abbraccio che M.A. fece subito sentire a casa. Dopo 15 minuti eravamo davanti all'abitazione ed il marito aveva già cucinato ed apparecchiato la tavola per noi tre a lume di candela con del buon vino francese. Ero stanchissima, comunque stupefatta da tanta accortezza e la calda, atmosfera che via via si andava creando, sembrava che ci conoscessimo da sempre. Erano le 19.30, dopo la deliziosa cenetta piena di stimolanti conversazioni, M.A. accompagnarono al mio appartamento al terzo piano dove M.A. potei tranquillamente godere un rilassante bagno caldo e profumato, masturbandomi vogliosa. Inconsapevole delle videocamere nei locali, da cui qualcuno M.A. stava osservando. M.A. potei d'avanguardia Introduzione fetticcio zero del diario di Perlanera, tratto 1 Le sensuali fasi per il bagnio In un lontano futuro, nella città sommersa di Europox, un continente invaso da struciali industrie e multinazionali regnava il ricordo di una selvatica natura e pacifica libertà. Era nato e si era cristallizzato un amore magico tra due anime perse nell'ostilita di Sheikimice e quartieri bellici, del mercato dominante degli Kiberfly. Perlanera aveva ritrovato la sua felicità eterna, nata per servire il suo padrone, nelle più profonde sfere dei piaceri. La notte è trascorsa tranquilla dopo il nostro meraviglioso incontro. Come sempre sono stata benissimo con te, non sai quanto mi rende felice poter esaudire ogni tuo desiderio, sono nata per servirti, non chiedo altro per poter essere veramente felice. Ci siamo incontrati in bagno, sì, come sempre. Tu eri lì, davanti a me, meraviglioso padrone mio e i miei occhi non smettevano di adorarti, il mio corpo fremeva dalla voglia di stare tra le tue braccia. Mi hai fatto un cenno e mi sono avvicinata, a te, mi sono inchinata i tuoi piedi e tu mi hai accarezzato la testa invitandomi ad alzarmi. Mi hai stretta forte al tuo petto e mi hai baciata dolcemente. Hai voluto che riempissi la vasca da bagno con acqua calda e profumata. Dopo avermi bendato gli occhi, mi hai spogliata lentamente e mi hai fatta immergere, quindi ti sei immerso nell'acqua insieme a me. I nostri corpi uno sull'altro erano diventati un unico corpo e la pelle, scivolava rendendo tutto eccitantissimo. Tu seduto da una parte della vasca mi hai fatta sedere davanti a te, volgendoti la schiena. Hai cominciato ad insaponarmi lentamente mentre dolcemente accarezzavi il mio corpo. I miei capezzoli turgidi ti hanno fatto capire quanta voglia di te mi stesse assalendo ma tu hai voluto aspettare. Hai voluto farle aumentare. Mi hai girata verso di te e hai cominciato a baciarmi il collo, le spalle ed i seni. Prendendomi una mano, l'hai guidata sul tuo membro che era già durissimo, mentre tu giocavi con il mio clitoride. Quindi mi sono seduta su di te, per unire i nostri corpi. Ti accarezzavo il petto, mentre lentamente andavo su e giù scivolando sul tuo cazzo che pulsava per quanto era duro. Ho iniziato a baciarti e tu giocavi con i miei capezzoli poi mi hai presa per i fianchi facendomi accelerare i movimenti. Le nostre bocche si cercavano, le nostre lingue, come impazzite, percorrevano i nostri corpi sempre più avide dei nostri sapori. Masturbati, mi hai detto piegandomi all'indietro e così ho fatto. Tu, con il tuo cazzo dentro di me mi guardavi mentre io giocavo con il mio clitoride e mi lasciavo guidare dalle tue sapienti mani lungo la tua asta. Quando sono venuta mi hai tirata verso di te e mi hai stretta forte continuando a cavalcarmi con quanta forza e voglia avevi. Sei venuto anche tu, riempiendomi fino all'ultima goccia. Siamo rimasti così, abbracciati a coccolarci e a baciarci per un po', ma il tempo era finito e tu dovevi andare. Uscendo dalla vasca ci siamo asciugati a vicenda, accarezzando ancora un po' i nostri corpi in attesa del prossimo incontro. Per la prossima volta ho una sorpresa, mi hai sussurrato. Rivestendoti, mi hai baciata dolcemente e io sono andata a letto, in attesa che tu torni a prendermi mio signore adorato. Ti amo, sempre di più, la tua perla nera. Salve, carissimi visitatori e panchettari. Il bello del cyberpark non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini dell'impossibile ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali.